Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. In onore è stato il magnifico ed eccelso Signore Nostro Caleazzo del Conte di Milano. Convocati ed adunati, questa ammirabile e rispettabile rappresentante a un popolo di Masera deve stabilire ed ordinare i seguenti articoli in aggiunta al vecchio statuto. La votazione avverrà per alzata di mano. 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 Anzomi, metti che si fermo, sei assortivo da nasci un po' di campagna. Il più vero è che io da nasci un po' di, è davvero un po' di, è un po' di sorrazione, perché può pensare la gente, vita sulla maria, più campagna, può pensare la gente, e più. E sì, perfetto, metti il spirito e gente. Per nasci un po' di campagna, in un po' di, ma ci parliamo per il joio e più fuori. E al termine di questa rappresentazione, che è quello che è successo nel 1369, o giubili, in quel dimasera, alla fine della fiera tutti questi ragazzi, tra cui quella che oggi confie 11 anni, 12, 13, 14...